E' la Chiesa di Cristo ad aver inventato gli ospedali, la cura diffusa del malato e questo fin dai primissimi secoli. L'attenzione ai sofferenti infatti è una costante della storia della Chiesa cristiana e della sua presenza anche attraverso i tanti ordini ospitalieri. E non solo nell'epoca medievale ma fino ai tempi recenti non mancano cristiani che dedicano la vita all'assistenza diretta di malati e disabili, che hanno fondato ordini o opere che con cura misericordiosa verso i fragili hanno alleviato i dolori di molti nell'umanità. Grazie a tutti.